Sviluppo umano, formazione e lavoro sono stati i temi al centro di un convegno a Palazzo Laskaris che ha preceduto la firma del memorandum tra Italia e Tunisia sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Un momento pubblico organizzato da Connect, Confederazione di Imprese Civiche per la Tunisia, per approfondire il tema dello sviluppo dei paesi dell'Africa Mediterranea, oltre alla misura della ricchezza delle economie.